Musica Ciao ragazzi, io sono Escobar, questo è il mio canale, benvenuti a tutti per chi non è quasi posto di iscritti si iscrivono, vabbè, divento una cantilena questa cosa per chi praticamente mi voglio seguire e mi segua, io sono qui, voi siete lì e noi siamo una grande famiglia, questo canale si sta comunque ampliando sempre più e ne sono orgoglioso, siamo sempre di più, sempre meglio e mi piace questa community perché voi, voi ragazzi, mi state tenendo comunque molto ma molto, diciamo, su con il morale perché sto passando un brutto periodo, ma io vi ringrazio vivamente e ringrazio soprattutto coloro che mi hanno inviato email dove mi hanno chiesto come stavo, cosa stavo facendo, eccetera, eccetera, perché per me questo è molto importante, noi siamo una grande famiglia e ci sosteniamo a vicenda. Vi ringrazio moltissimo perché in questo periodo molto brutto mi state aiutando parecchio. Sapete cosa facciamo adesso? Allora, non l'ho pensato tipo 10 minuti fa mentre stavo camminando, zoppicando per la strada. Sapete che dobbiamo fare? Dovete inviarmi su escobaracquarieco.com, video di pochi secondi dei vostri acquari oppure immagini, foto dei vostri acquari, mi inviate comunque da questo video in poi, le foto di prima di questo video non ne terrò conto, ma da questo video in poi, ok? Prenderò i vostri, tipo che ne so, 10 secondi di video, massimo 12 secondi, li monterò uno dopo l'altro, li commenterò e darò la Esco Corona a colui che praticamente ha composto la migliore vasca con i pesciotti giusti, con praticamente l'alimentazione giusta produrrò anche la salute dei pesciotti, eccetera, eccetera, e il migliore avrà la Esco Corona. Lo faremo, che ne so, una volta al mese questa cosa qui e magari potresti capitare anche tu come incoronato nella settimana del mese, scusate. Che altro? Sono tutti coloro che si sono appena iscritti, coloro che sono iscritti da tanto, coloro che mi supportano da tanto, in questo periodo bruttino mi state supportando e questa è la cosa migliore. Io ne uscirò ancora più forte, sarò tra voi, faremo magari, che ne so, un radunetto a Napoli, ci vediamo tutti quanti, ci prendiamo una pizzetta, che ne so, riempiamo una pizzeria intera e stiamo un po' insieme. Ragazzi, io vi do un grande saluto, un grande abbraccio, un bacione e mi raccomando di mandarvi, mandarmi su email a scoparatoiochioccioagmail.com, video di pochi secondi o immagini, potete farmi anche immagini o video, tipo 10-12 secondi, dopo ci siete anche voi vicino all'acquare e fate così, che ne so, fate così, eccetera, eccetera, fate la vasca di fianco, mettetevi di fianco la vasca, ovviamente, vi inquadrate voi e la vasca, così ci siete anche nei miei video, ok? Perché vi voglio tanto ma tanto bene. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, mandatemi le cose, così io monto questo video e faccio uscire anche la escocorona al miglior acquariofilo, appare il mio, poi comunque probabilmente farò ogni mese questa cosa e verranno incoronati gli escobiti migliori, ok? Ragazzi, ci vediamo, vi do un salutone, iscrivetevi, commentate, lasciami un bel like per partecipare a questa iniziativa, commentate con esco l'acquario, hashtag esco l'acquario, magari mettetelo anche su Instagram, esco la dislessia, va bene, mettetelo anche su Instagram con l'hashtag esco l'acquario. Ciao ragazzi, buon concorso!